Ci festeggiamo insieme questi 80 anni del Monsignor Diverton, del Monsignor Miserax, con la loro musica. E per questo oggi sono con noi il coro polifonico canticoro giovilo, che coliamo con un forte applauso. L'ensemble d'artus musicus concertus. L'ensemble di Ottoni, Italo Panamense, Panita. Il maestro Gianluca Villivertucci all'organo. E a tenere insieme i figli di tutta questa bellissima musica che accolteremo, nata dal cuore, dalla preghiera, dalla vita fatta quotidianamente. Nella liturgia, sia del Monsignor Miserax che del Monsignor Diverton, sarà il maestro Paolo Tagliapera che accogliamo. Buonasera, benvenuti, ben trovati, grazie per essere così numerosi. E io sono molto emozionato, devo dire la verità, sono anche abbastanza teso, perché sono due mesi che pubblicizzo questo concerto. E dico sempre, è una festa, è un concerto. Poi, da due giorni, ho avuto una grande e forte scarica di tensione, sono veramente iperteso. E ho detto, ma io di feste e di concetti, ne ho fatti veramente tanti. Com'è che sono così teso? Ma il motivo è molto semplice. Perché questo è un esame per me. Cioè, andare a interpretare le musiche di Liberto e Miserax, davanti a Liberto e Miserax, è banco d'esame. È un banco d'esame. Quindi, ecco, come si dice, che Dio ce la mandi buona. Grazie infinite, buon ascolto. Grazie. 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 Grazie.